Il consiglio direttivo dell'associazione 50 e più imperia ha deliberato di conferire anche per l'anno 2017 tre borse di studio a studenti meritevoli dell'Istituto di Istruzione Superiore Ruffini e Icardi di Arma di Taggia. La cerimonia di consigna alla quale ha partecipato anche il sindaco Vincenzo Genduso è avvenuta durante un pranzo preparato dagli allievi. I premiati sono Riccardo Curti per il settore Enogastronomia, Gaia Valfre per il settore Sale e Vendita ed Elena Reggi per il settore Accoglienza Turistica. 50 e più è un'associazione socioculturale di oltre 50 anni aderente alla Confcommercio. Le borse di studio 50 e più che vengono assegnate da più di 15 anni agli allievi meritevoli dell'Istituto sono attualmente dedicate alla memoria di Dario Berlusconi di Bordighera, dirigente Confcommercio e consigliere 50 e più scomparso qualche anno fa. Grazie a tutti.